I arresti domiciliari. Rapina. Rapina? Conservate nelle biblioteche pubbliche o private di tutto il mondo. Veloce. No, non guardare. Ti disturbavi, insomma. Carino qua. Sto di qua, tu? Che sa m'era? Filologia italiana, 28. Quasi 30. Per poco... Ma sei fuori corso, tu mi sa un po'. Stai dicendo che sono vecchio? No, ti dico qualcosa del genere. Ma vedevo qua prima che... Mamma tua. Vi somigliate perché? L'ho capito subito. Sembra simpatica. È morta. Mi dispiace. Comunque ancora non era simpatica. Mi dispiace che è morta. Comunque non te ne frega un cazzo. Come non me ne frega un cazzo? Non te ne frega un cazzo. Ma stessa... Non me ne frega un cazzo. Che c'è non ti va? No, che io pensavo che hai fatto tutto questo per il passaggio e basta. Te l'ho detto che non sei svelto. Oddio, mi ha riuscito la borsa. Scusi. Oddio, mi ha riuscito. Grazie a tutti. Non è che torno. Ma chi? Mamma tua. Mamma, guarda fuori alla parrucchera. Ieri si è rotta una tubatura. Dove? Ma che cazzo dici? No, per collettare, era una condotta, non era una tubatura. Sono quelle che non ho fatto mai. Tipo lo sport. Io non l'ho fatto mai, ma ora proprio vorrei fare lo sport. Per altri due anni.